Questi dati sono esattamente la conferma delle analisi e delle proposte che la CIS da settimane e da mesi sta portando avanti. Abbiamo bisogno di far scattare un meccanismo forte di incontro tra domande e offerta, abbiamo bisogno di accompagnare i processi con azioni di formazione concreta che siano in grado di cogliere i cambiamenti che ci sono nel lavoro, abbiamo bisogno di una serie politica attiva del lavoro. La CIS da mesi ha proposto in campo, ieri finalmente è arrivato uno spiraglio nel confronto con il governo, speriamo che anche questi dati confermino la necessità di un lavoro forte, non più rindiabile in questa direzione qui. Abbiamo bisogno di fare incontrare le esigenze dentro il lavoro che cambia, tutti assieme a lavorare in questa sinergia. Grazie a tutti.